Da pianeta a pianeta, i fratelli dello spazio attraverso Wanda a cura di Vubi, non vi spaventate del nostro parlare. Il cosmo è pieno di voci che rimbalzando da pianeta a pianeta si avvicinano a tutti gli esseri completamente ignari del sapere cosmico. Sapere cosmico è un'espressione che viene usata spesso e adesso comincia ad essere formulata dalla vostra mente, che però non è ancora cosmica. Bisogna infatti conseguire altri obiettivi, aggiungere altro sapere ed effettuare altre ricerche per potersi avvicinare al pensare cosmico. Le strade sono diverse, ci si arriva per tanti sentieri, chi per amore e chi invece tramite la scienza vuole scoprire i misteri arcani della verità e della creazione.